Questa è la vostra casa? È la dimora dei Brandon. Vedo tantissimi quadri stupendi sulle pareti. Grazie. E un paio di lavori a punto croce. Ah sì, ricamo ogni giorno. Davvero? Un giorno senza punto croce e un giorno senza sole. Questa casa aveva il mio stile. Credo sia giunto il momento che Jimmy ci metta del suo. Ciò che piace a me lo metterò in camera mia. Va bene, il Granny Chic è molto carino. Lo stile Granny Chic va molto di moda al momento. Quindi punterò su quello, ma più di classe. Preferiresti uno stile più moderno? Mi piace il vostro stile. Credo si riferisca a te. Non so se ho uno stile, ma mi piace quel tipo di legno dello Utah. Un ambiente come quello di Palm City. Un po' più rustico. Più o meno, sì, ma elegante. Per esempio bianco. Amo anche il nero. Credo ci sia la possibilità di mischiare gli stili. Sarebbe bello poter unire il moderno che piace a Jim, al tradizionale. Questa casa ha uno stile alla Ellen. È arrivato il momento di rinnovarla e renderla un po' più moderna. Lo stile di Shay lo adorerai da morire.